Allora, quelli che non ho chiamato, se per piacere, stanno proprio in fondo perché alcuni gli attenti davanti non riescono ad essere in posizione con la luce. Ridi! Allora, gli attenti che ho chiamato si mettono solo la riga nera che sta loro indietro. Ok. Ok. Allora, bocca in bicicletta. Aspetta, vai! Marco! Chiudi! Apriti, apriti! Ecco. Non farvi coprire, Andrea. Oh, giù, po! E ruota. Ok. Dove sali? Palla bene. Vai, palla bene. Ok. Spesso le toraciche. Bravo. Perfetto. Vai, Marco! Gira, Marco! Buono, buono! Gira bene. Gira bene. Gira bene. Dai. Dorsali, Marco! Dorsali, Marco! Larga, larga ancora! Larga, bravo! Fermo! Ok. Abre, lo entro. Pronto, giù! Buono, guardate perché io guardo solo qui. Buono, butta fuori l'aria. Tira la gamba. Tieni dentro, tieni dentro. Bravo, bravo. Allora, fermo. Come? Tieni dentro, gamba. Rilassato. Ok. Rilassato. Rilassato. Sono... Ah, bene. Esa è la gamba. Ho, 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 ho. Ah, bene. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo.